Buongiorno a tutti, non ho preparato niente, ho iniziato, ho voluto dare la mia opinione perché io e i miei amici arriviamo da Milano, quindi la possibilità di poterci incontrare qua a Roma sono veramente esigue. Volevo portare un dibattito, cioè iniziare a dare delle idee su quello che potrebbe essere il programma che possiamo portare alle nazionali, perché fino adesso ho sentito tante belle idee, tante belle parole, ma concretamente ho sentito poche idee su cui dibattere, su quello che potrebbe essere veramente una soluzione ai vari problemi che abbiamo in questo momento nel nostro paese. Una delle prime problematiche che trovo da dover risolvere sia la responsabilità civile e penale di chi ci governa, cioè chiunque debba andare al governo se combina delle cazzate, deve pagarne le conseguenze. Cioè è ora di finirla che quando una persona arriva sullo scranno e può decidere di fare dispara qualunque cosa nel nostro paese, sulla nostra pelle, finito il suo periodo di governo attorato, può tranquillamente andarsene a pancia all'aria senza nessuna responsabilità dell'operato che ha preso. Quando chiunque di noi, qualunque lavoro, se combina disastri, sa benissimo di doverne pagare le conseguenze. Un altro dei gravissimi problemi che dobbiamo affrontare è il problema economico. Sappiamo benissimo, chi più chi meno, tutti, qual è il problema del signoraggio bancario, quindi l'essere schiavi di una banca centrale che attualmente è anche sovranazionale, quindi siamo totalmente debitori di qualcosa che ha il totale controllo sulle nostre decisioni perché anche senza mettere parola vera, risponendosi nella vita politica, sapete benissimo che semplicemente influenzando i mercati ci possono cambiare e ricambiare quando vogliono. L'idea che avevo io sinceramente è poter affiancare all'euro il bot di piccolo taglio direttamente emesso dall'Italia.